Ma noi ci siamo, lo Stato c'è, io sono uno che crede molto nel lavoro di rete. Per me lo Stato è unico, a prescindere dall'indossare una uniforme che può essere blu, può essere nera o può essere grigio. Siamo lo Stato, lo Stato è un tutt'uno. Stando sul pezzo, noi le antenne le terremo dritte. La droga è un fenomeno che riguarda diverse realtà italiane. Saremo sul pezzo sulla droga, avremo una intensificazione dell'attività preventiva e repressiva. Io dico che nel momento in cui è commesso un reato, lo spaccio di droga, uno scippo, un furto in abitazione, lo Stato ha fallito. Abbiamo fallito perché non ha funzionato la prevenzione. Io conto molto sulla prevenzione. Essere sul territorio è sinonimo di sicurezza. Il cittadino ha bisogno della sicurezza, anche quella partecipata, anche quella visiva.